Un cambio di passo epocale, veramente una svolta enorme. Come neonatologi non vediamo l'ora. Arriva in Toscana la campagna di immunizzazione universale e gratuita rivolta a tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024 per proteggerli dal virus respiratorio sinciziale, l'agente patogeno responsabile della maggior parte delle infezioni acute alle basse vie respiratorie, in particolare le bronchioliti. Fino adesso veniva trattato, veniva protetto, veniva protetto con la fascia di bambini cosiddetti a rischio, di neonati a rischio, gravemente prematuri o con patologia grave, faceva sì che tutto il resto della popolazione neonatale, esposta a rischio perché magari con un fratellino a caso, frequentando l'asilo, andavano incontro ad una bronchiolite a volte anche importante con necessità di ricovero e di cure intensive o subintensive. E chi veniva ricoverato era la gran parte di questi bambini che uscivano dalla profilassi proprio per l'assenza di fattori di rischio al momento della nascita. Adesso invece abbiamo l'opportunità di riservare il trattamento a tutta la fascia neonatale e quindi tutti i bambini potranno essere protetti da questa infezione. Si prevede una riduzione delle infezioni gravi con necessità di cure ospedaliere anche veramente sopra all'80%. L'infezione durante la stagione invernale richiede l'ospedalizzazione di circa un bambino su 50 e circa il 20% dei piccoli ricoverati a necessità di essere curato in terapia intensiva. Abbiamo nei mesi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, se venite, abbiamo il reparto pieno di bambini con ossigenoterapia, necessità di assistenza respiratoria e purtroppo qualche volta hanno necessità non solo di degenze lunghe, ma addirittura anche di essere e finire in terapia intensiva. Quindi una grande morbidità che interessa non solo chi ha fattori di rischio, ma l'80% di quelli ricoverati non sono quei bambini prematuri, sono bambini che non hanno fattori di rischio. Ecco il significato di un anticorpo monoclonale che viene offerto a tutti. La campagna partirà ad ottobre. I bambini nati tra il 1 aprile e il 30 settembre 2024 saranno immunizzati presso l'ambulatorio del pediatra di famiglia, mentre quelli nati dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 saranno immunizzati presso i punti nascita prima della dimissione ospedaliera. L'offerta sarà infine ulteriormente integrata dai centri vaccinali delle ASL. Dovremmo prima di tutto spiegare a tutte le famiglie di che cosa si tratta e come viene attuata e soprattutto rendere la famiglia serena e tranquilla rispetto a una iniezione, a una sostanza che viene iniettata, che però non ha alcun fattore di rischio. E oltretutto anche la registrazione di questo dato all'interno del libretto vaccinale proprio perché risulti che questo bambino ha ricevuto la profilassi e quindi tutti gli operatori sono impegnati anche nella parte organizzativa e burocratica della profilassi.